Il London Bridge crollerà, crollerà, crollerà. Il London Bridge crollerà, oh mia signora. Sam. Riesci a vedermi? Come vanno le cose laggiù? Sempre senza sorveglianza, sempre senza catene, ma sempre bloccata. Però se continuerai a collegare le persone e se mi raggiungerai, potremmo tornare a Est, tornare a casa. Grazie. Dico sul serio. È terribile. Ci sono sempre meno abitanti all'interno delle città ultimamente. Nessuno vuole più avere dei figli. Ma gli umani non sono fatti per vivere da soli. Sono fatti per ritrovarsi insieme, per aiutarsi l'un l'altro. E se noi, come persone, non ci riusciremo, se non potremo essere uniti, allora, beh, aveva ragione Bridget. Sarà l'estinzione. Che dici? Ricostruire l'America non significa eliminare le CIA. Fino a che esisteranno loro, non avremo scampo. Ma almeno ci resterà la speranza. Io ti aspetterò, Sam. Io ti aspetterò. Vieni a cercarmi. Sam, mi senti? Parla Hartman. Dato che sei sveglio, potresti darti una rinfrescata. Che ne dici? Di farti una doccia. Fa bene al corpo e allo spirito. E casualmente anche alle mie ricerche. Sì. corporei hanno sulle cia studi altri dotati di dolce tutti all'aprile inclusi me ma però i risultati finora sono poco probanti ma tu possiedi caratteristiche particolari essendo anche un diverso perciò confesso di nutrire un cauto porto il campione con te se ti capiterà l'occasione prova a usarlo su una cia sono curioso di sapere come reagiscono chissà magari potrebbe anche esserti d'aiuto una vecchia ricerca riportava gli effetti che i fluidi corporei di individui come noi avevano sulle cia è solo attraverso questi materiali che possiamo recuperare la conoscenza del passato non solo il death stranding ma anche il mistero delle tue singolari caratteristiche e perfino l'origine delle dooms forse c'è ancora speranza per l'umanità sam a me non interessa ricostruire l'america voglio recuperare il passato ci siamo quasi e se i vostri collegamenti non portassero a niente che si fa ho detto che si fa mi spiace disturbare il tuo riposo ma questa cosa ti interesserà forse ti farà riposare meglio abbiamo ricevuto dei messaggi indirizzati a te personalmente non li ho letti ma arrivano per lo più dai tuoi clienti dovresti controllare se contengono informazioni utili puoi accedere alla posta con le m link o dal terminale nella tua stanza privata c'è qualcos'altro che vorrei condividere con la rete chirale siamo in grado di recuperare il nostro passato possiamo ricomporre e ripristinare dati che un tempo credevamo perduti raccogliendoli da ogni angolo d'america il nostro archivio è in continua evoluzione ovviamente ma espandendo la rete integrando nuove città e stazioni secondarie potremo recuperare sempre più informazioni come i registri e i rapporti dell'ultima spedizione ad esempio le informazioni andarono perdute con la soluzione di central not city ma adesso siamo già riusciti a recuperarne qualcuna puoi leggerle dal terminale di una stanza privata o dalle manette link alla voce archivio ti potrebbero interessare molto